Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi una piastra fantastica per i frisè. Allora, innanzitutto questa è una bellissima novità per i frisè, perché? Perché adesso vedrete, con questa piastra riusciamo ad avere un frisè omogeneo dalla base alle punte. Punto primo. Secondo, questa piastra ha un microprocessore all'interno che consente di avere una temperatura costante a 230 gradi e ha questi due rulli, come potete vedere, in titanio e ceramica tormalina. La piastra ha il suo interruttore on-off e andremo a vedere in un altro video l'uso di questa piastra qua per avere dei frisè perfetti. Qui trovate il pettine che, quando noi andiamo a prendere la ciocca, praticamente il pettine ci divide la ciocca e ci pettina la ciocca. Fantastico design, leggera e compatta, buon divertimento e tanti frisè a tutti! Grazie a tutti!